Ciao persone glitterose e benvenuti o bentornati sul mio canale. Siccome ho tre librerie, non badate al casino, per fare il bookshelf tour la vedo davvero davvero dura, per cui ho deciso di dividere il video in tre parti, quindi bookshelf tour 1, bookshelf 2 e bookshelf tour 3 e iniziamo con la prima. Il primo è composto da tre scaffali in alto, tre scaffali in centro e tre scaffali sotto ed è stra strapiena, ma proverò a farvela sperando che in qualche modo mi venga. Il telefono tremerà un po', però vabbè, ok. Questo è il primo reparto e l'ho adebito a Star Wars, diciamo. I gadget che ho qui sono questa action figure di Kylo Ren, questo Rollins doppio del Stormtrooper e questo mini Funko con ciubecca con il babbo led che fa wow wow, ed è troppo carino. E questa bottiglia della Coca Cola presa all'Expo. E un ultimo gadget, questa tazza di Star Wars che me l'aveva regalata Valenick il complano dell'anno scorso, se non mi ricordo male, ed è bellissima. Il primo libro che c'è è Star Wars Il Codice Sith, poi abbiamo Star Wars Una Nuova Speranza di George Lucas, Star Wars L'Impero Colpisce Ancora di Donald Figlud, e Star Wars Il Ritorno dell'Oge di James Caine, tutta la trilogia, insomma, questa è la mia preferita. Poi qui in mezzo ci sarebbe la tazza. Poi ho Star Wars The Clone Wars Assalto al pianeta verde di Karen Miller, regalo di Vale di Vale Libri, e di Nick. Il libro delle risposte con il meglio dello Yoda. Due libri che non c'entrano niente con Star Wars, ma stavano bene lì, ed è Bleeding Love di Alexandra Haveri, e Gli Incubi di Esol di Lander Deni, che vi consiglio perché io ho adorato questo libro. Passiamo alla seconda mensola, che è un mix con l'edizione della Newton-Componton più dei gadget. Il primo gadget è questa tazza di colondra, che purtroppo mi si è rotto il manico, e dentro ho un po' di cosine strane, tipo sì, il mio peluche del topo. Ho il Funko Pop Porta Chiavi di Belle, della Bella e la Bestia, che l'ho messo vicino al libro Bella, la Bella e la Bestia, legge e sogno con Belle, che poi vi farò vedere nel dettaglio, e il Funko Pop di Sherlock, perché dietro, quello lì giallo, appunto è Sherlock Holmes di Conan Doyle. Come detto prima, il libro Prima che si vede tutte degli altri è questo, Leggi e sogna con Belle, con Emma Watson, ed è bellissimo. Il primo di questa, della Newton-Componton, è La casa sregata e altri racconti di Lovecraft, L'Avventure di Sherlock Holmes di Conan Doyle, il Mago di Host di Baum, David Copperfield di Dickens, L'Albergo stregato di Collins, le due città sempre di Dickens, Ivano di Scott, storie di vampiri di e degli autori, tipo Moe Passant, Conan Doyle, insomma ce ne sono tantissime, e mi piaceva perché non si trova più in giro questo qui, allora l'ho comprato. Ora vi faccio vedere i tre libri che ci sono sopra lì. Prima tra tutti, Se potessi rivederti, che è il secondo di Se solo fosse vero di Mark Levy, non l'ho ancora letto purtroppo, ma il primo l'ho adorato tantissimo, quindi spero che questo mi piaccia. Appunto, Se solo fosse vero di Mark Levy, Danger di Sir Arthur Conan Doyle, Danger e altre storie, è bellissima questa edizione, ve la consiglio. Qui diciamo un po' un casotto, ma adesso tolgo i libri davanti per poi farveli vedere meglio. Come Gadget Fandom ho questo Funk Pop DJ dell'Isola degli Sperduti e basta. Dietro i libri davanti si presenta così. Forever di Amy Angel. Metti a fuoco. Forever solamente io e te, che è il secondo di Amy Angel, che non ho ancora letto. Silver, il libro dei sogni di Kiss and Gear. Silver, la porta di Liv, sempre di Kiss and Gear. Silver, l'ultimo segreto, sempre di Kiss and Gear. Ed è l'ultimo di questa trilogia dei sogni. Abbiamo poi Red, di Kiss and Gear. Blue, sempre di Kiss and Gear. Green, di Kiss and Gear. E questa è la trilogia del Gemme. Ho un libro che non c'entra molto, però ci stava come colore e come dimensione. Dimensione, di Michael Handel a Scuola di Magia. E l'ultimo dietro che si trova è l'Isola degli Sperduti, cioè il Flash, scusate, di Melissa della Cruz. Grisling, di Christine Cachor. Inferno, di Francesco Gugni. Il riflesso del lupo, di Mario Mazzanti. Chi sogni e nuovi gerani, autobiografie di Guareschi. La battaglia delle tre colonie, di Kendran Blake. Passiamo ora alla seconda riga di questa mia libreria. Come gadget ho questa bottiglia di vetro della Fanta. Il gadget del Focke-Pappe del Cappellaio Matto. Lo Zunzum dello Stregatto. Questo presepino che mi sembrava carino. E quel pulcino lì. E prima non si vedeva, ma ho la collana di Alice nel Paese del Maraviglia con il biscotto, il tè e la bottiglietta che ho scritto Bevimi. Poi vi farò vedere del perché l'ho messa qui. Come primo libro ho Incantesimo, di Raquel O'Quings. Non so come si pronunci, vabbè, Incantesimo. Maleficio. Sortilegio. E Magico, sempre di Raquel O'Quings. Poi ho Il mio splendido migliore amico. Tra le braccia di Morfeo. Il segreto della regina rossa. E l'ultimo, Se cose impossibili, di A.J. Howard. L'ultimo libro che ho su questa mensola è di Alessa Coppola, Alice from Wonderland. E questo è quello, che contiene tutti e quattro i romanzi. Ed ecco perché c'è il Funko Pop, il cappellaio matto. E lo Zunzump, nello stregatto, più la collana di Alice. Perché riguarda più o meno Alice from Wonderland. Secondo scaffale, anche qui bello incasinato. Quindi vi faccio vedere prima i libri dietro e poi i libri davanti. Qui troviamo Baldassar di Claudia Gray, che in realtà è uno spin-off. Ed è lo spin-off di Evernight. Questo è il libro che contiene tutti e tre i primi tre volumi. Dopo aver letto questo, potete leggere... Potete leggere... Questo, cioè, in realtà, dopo Our Class, potete leggere Baldassar. Però l'ho messo prima perché ha la copertina rigida e stava meglio. Scherzavo, prima di Baldassar, cioè, dopo la trilogia, bisogna leggere Afterlife, che è l'ultimo della quadrologia, e poi Baldassar, sempre di Claudia Gray. Mi ero dimenticata di questo libro. Bello. Oh, poi, Promessi Vampiri. Promessi Vampiri da Darkseid, di Beck Fantastic. Fantasticay, non so mai come si pronuncia. Comunque, è una duologia. E ho trovato bellissimi, soprattutto il secondo. Poi troviamo Silver Finn, Missione Segreta, di Charlie Hickson. Spara o muori, sempre di Charlie Hickson. E l'ultimo della trilogia, Sette di Sangue, di Charlie Hickson, e parla di quando James Bond andava a scuola. Praticamente James Bond a piccolo, e io ho amato questi libri, probabilmente li leggerò prima o poi, ma sono introvabili. Non si trovano più in giro. Subito dopo la saga di James Bond, ho L'altra metà del mondo, di Gabrielle Zevin, che è l'autrice della Misura della Felicità, che è un libro che io ho amato. E ancora questo non l'ho letto, però spero che mi piacerà, perché ho altissime aspettative. E l'ultimo che si trova, appunto, è La Misura della Felicità, sempre di Gabrielle Zevin, che secondo me hanno delle copertine bellissime. Poi non lo so, va a gusti. Passo ai libri che c'erano davanti, allo scaffale, e abbiamo La Storia Infinita, di Michael Hende. Il Cavaliere d'Inverno, di Paulina Simmons. Anima di Wade Mowat, non ditemi come si pronuncia, perché non lo so. Di Patrizia Carrano, Notturno con Galoppo, cioè Flash, scusate. Ecco qui. Sempre della stessa autrice, Patrizia Carrano, o Campop, di prova. Di Cecilia Aren, o Hashtag Schrevimi Ancora, dall'autrice, appunto, di PSL of You, però non l'ho mai letto, PSL of You. Ho letto questo, ho visto anche il film, e mi è piaciuto davvero tanto. Ultimo, ma non per importanza, ma è il più grosso, quindi sta sotto per sollevare un po' tutti gli altri libri, è Il Grande Libro di Dracula. E anche qui ha, tipo, 32 straordinari racconti, firmati da Bram Stoker, Ramsey Campbell, Kim Newman, Graham Masterton, Nancy Kilpatrick, e molti altri che, vabbè, sono tantissimi. Passiamo ora all'ultimo ripiano, all'ultimo quadrato del secondo ripiano. Anche qui ho un Funko Pop di Style Stiliski, poi vi spiegherò del perché l'ho messo qui. Una tazza di Harry Potter, sì, con quelli miei personaggi doppi avanzati, io l'ho finita la collezione. L'appoggio. E questo salvadanaio a forma di orsetto, che mi piaceva, allora l'ho messo lì. Come primo libro troviamo Frostbite, l'alba dell'icantropo, di David Wellington. Twelve di Stella Martini. Vertigine di Sophie Germain. Rivalità. Rinascita. Origini parte prima, sempre di Sophie Germain. Manca le origini di parte 2 perché non è ancora uscito. Poi ho. Questo, purtroppo, si è rotto alla copertina e mi dia spieciuto un sacco, ma è capitato. Comunque è Forever di Maggie Steve Water. Deeper di Maggie Steve Water. E Shiver di Maggie Steve Water. In realtà li ho messi dal terzo al primo perché erano più carini messi così. Come ultimo, per chiudere in bellezza questo ripiano, un libro che non c'entra niente con le trame degli altri libri, ma, vabbè, abbiamo, Noi siamo infinito, di Stephen Bosky, non so mai come si pronunci, con la copertina del film, con Emma Watson, Lorcan Lerman e Erza, non mi ricordo mai il cognome. Ho aggiunto anche la collana di Tim Wolf proprio perché Stice fa parte della serie tv di Tim Wolf dove ci sono lupi mannari e qua sono praticamente libri che parlano di lupi mannari. Quindi la mia logica è stata questa. Ma ok. Siamo arrivati all'ultima riga di questa libreria. Spero si veda e spero riesca a registrare perché è davvero in basso. Ma io ci proverò lo stesso. Anche qui ci sono pile di libri davanti, quindi vi farò vedere prima quelli dietro e poi quelli davanti. Il primo libro che c'è è Vampiri e lupi mannari e sono tantissime leggende riguardo a queste due creature che a me affascinano un sacco. Poi troviamo Implosion, Insidia e Impuro di MJ Heron, che è una saga che amo e consiglio a tutti. Poi abbiamo The Aether Brawer, il figlio del vampiro. La Ragazza del vampiro L'apprendista vampiro. Purtroppo è stata interrotta in Italia e quindi ho questa ansia di sapere come va avanti ma non potrò mai saperlo. Vabbè. Poi ho Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo e il ladro di fulmini di Rick Riordan, che non ho mai letto. Però è qui. Però ho anche il secondo, Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo, Il mare e dei mostri. Poi ho questo libricino piccolo 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 di Tello Svevo, ed è Argo e il suo padrone e altri racconti. E un libro che non c'entra niente, però stava bene lì perché era piccolino, Il cavallero irlandese di Julianne Osborne e Mick Knight. Nella pila davanti c'è Legarsi, che è questo libro book porn, secondo me è bellissimo. Di Ramsons Riggs, il primo, cioè la casa per bambini speciali di Miss Peregrine, in copertina flessibile. Hollow City, il secondo libro di Miss Peregrine, la casa per bambini speciali, sempre di Ramsons Riggs, in versione rigida. E come poteva non mancare questo, la biblioteca delle anime, il terzo libro di Miss Peregrine, la casa per bambini speciali, sempre di Ramsons Riggs. E per finire ho di Jerry Spinelli, Stargirl, che è un libro che io ho adorato tantissimo. Passiamo al secondo quadrato. Qui ho di Greg Coz, Udini, l'ultimo mago. Sono il numero 4. E il potere del numero 6, di Pitacus Lore. Mi mancano tutti i libri della saga, poi penso che la potrò leggere. Ancora adesso non l'ho letto, ma ho amato il film. Poi ho la duologia di Lance Rubin, quindi ho Death Date e Birth Date, di Mactyl Claser, non so come si pronuncia, Bookjumpers, di Aidan Chambers, Danza sulla mia tomba, sta cadendo, bello, di Ian Samson, Il caso dei libri scomparsi. Il sangue nero dei Romanoff, di Dora Levi Mossanem. E Bestly, di Alex Filin, quello che... Bestly, non so mai come si pronuncia quello che c'è il film, comunque. Nella pila davanti ci troviamo Nicola Sparks, Ho cercato il tuo nome. E sempre di Nicola Sparks, L'ultima canzone. Che sono i due miei libri preferiti suoi. Di Stephanie Meyer, ho il libro L'ospite. Jennifer Lee Carrer, W, che è un libro che io ho amato ma può non piacere, lo comprendo, ma a me è piaciuto un sacco. Il suo seguito, Il sangue che resta. Il diario di L. Rimbauer, La mia vita a Rose Red. E i sigaretti di Cold Town, di Holly Black. Che è uno stand alone, quindi potete comprarlo, non è una faga. Passiamo all'ultimo quadrato di questa prima libreria. E poi cercherò di fare anche gli altri, sperando di riuscire. Ma vabbè. Ho un libro di Let Fleming, La strada in fondo al mare. Che purtroppo non sono ancora riuscita a leggere. Di Patricia Corwell, L'isola dei cani. E Rupert Isaacson, Orspoi. Che tra l'altro è uscito anche un film. Delitti d'autore, con tantissimi autori di gialli. Gialli, quindi ci sono tantissimi racconti gialli. Innamorata di un angelo. Il mio angelo segreto. Un amore di un angelo, sempre di Federica Bosco. Caldo come il fuoco, di Jennifer Lee Armentraut. La vita quando era nostra, di Marianne Izaguir. Non so come si pronuncia. I segreti di Amber House, di Kelly Moore, Larkin Reed e Turker Reed. Ladra di sangue, di Sherry Priest. Non so come si pronunci. Frost. Non chiedetemi il nome perché non lo pronuncerò mai. La fiera delle castronerie. Praticamente ci sono delle note, cose così, di ragazzi a scuola. Ed è trascritto di 30 anni prima di... Io speriamo che me la cavo, sostanzialmente. I racconti più belli di Natale e dell'amore, in cui c'è il canto di Natale, piccole donne, il dono di Natale, insomma, vari racconti di Natale. Adoro la copertina, tra l'altro, è meravigliosa. Cani, pasticcioni e altre storie, di John Grogan, che è l'autore di You and Marley. Questo libro piccino piccino di Conan Doyle, Gli aforismi di Sherlock Holmes. E per finire ho Il miniaturista, di Jesse Burton. E questa è tutta la mia prima libreria, che vi ho mostrato adesso. Poi ci sarebbe tutta questa. E... Tutta questa, ma non so. Penso che vi dividerò i video. Il primo Bookshelf Tour è fatto, quindi magari, quando tornerò dalle vacanze, registrerò anche il secondo, che è un po' più lunghino e un po' più complicato da registrare. Però ce la posso fare. Anche questo è molto, 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 molto lungo. Ma ce la posso fare. Spero che vi sia piaciuto, che sia visto qualcosa. E... Sì, ho deciso di dividerli, perché per me è più comodo. Ciao persone glitterose!